salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di battle for games io sono carlo e oggi siamo tornati sono tornato perché dello era già tornato con qualche video di moto gp oggi siamo su un gioco intanto bello ciao ciao a tutti è tornato si c'è anche della posta e ci sono siamo su un gioco che dello parla in età di questo gioco fantastico il nuovo fifa il la rivoluzione io 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 lo vedo come opposizione a fifa e pes per voi non comprate pes 16 o fifa 16 dovete comprare questo esatto non è 16 mai 15 ma è uguale perché 16 primo numero che ti è venuto in mente non so vabbè 15 e regione comunque sia il gioco è un gioco di calcio dove tutto è possibile diciamo così allora facciamo qualche opzione così allora time out facciamo cinque minuti va bene dello team size 11 dai va bene lasciam così quante palle mettiamo partiamo con una quel massimo aumentiamo va bene il campo lo faccio io mi pare a me vai attenzione bello largo così e poi definire questo un gioco di calcio è veramente troppo alto è più un gioco sclero che esatto molto divertente però ci si diverte vai invitiamo dello vai ti sto invitando eccoci qua io sono i blu tu sei blu ok posto via portiamo no non cadere però guardate che gioco stupendo e allora è stare in piedi perché gli nomini qua non stanno in piedi i controlli sono con il guarda e li selezioni col mouse vai io sono pronto adesso ti vengo a tirare una lecca non vanno avanti ma che cacchio fa no arrivo ma ora questo messi è partito autogol attenzione prova l'autogol allora allora ci stiamo chiudendo adello nell'angolo allora vediamo la mappa un po in grande prendiamo questo qua ti metto tutti i giocatori nell'angolo attenzione non arriva uscire dalla mia area di rigore ovviamente non c'è la rimessa ma non c'è niente in sto gioco esatto ti ingroppo tra un po' iniziano lo stupro cioè si stuprano attenzione ah il bello di sto gioco è che si può far gol da ogni parte esatto la porta si rompe destra davanti dove vuoi basta che entra dentro stira metti qua la palla sta avendo un'orda di gruppo intanto rugby si smonta la porta intanto dov'è la palla dov'è? si smonta anche il muro si smonta tutto esatto la porta si smonta ma muove un po' tutti i due giocatori che sono in due soli tuoi ehi mani albitro attenzione stiamo uscendo alla ruota il mio è morto il mio è morto proprio non mi puoi far gol da qui eh spostati 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 no vai 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 mi piace troppo il tuo gioco la io non riesco a calciare in questo gioco il mio è morto intanto di testa ci prova il tuffo girati gira dai vai verso la palla eh si muoio è morto attenzione uno contro uno la io mamma c'è il gutte attenzione fate un passaggio no dall'altra faccina questo qua è un liscio edello non vorrei dire attenzione che arriverà prima il mio intanto sta per cadere cade no non è caduto però la prendo io è morto ecco è morto no no che cacchio fa cosa fa attenzione ecco a caldo perfetto invece ma io uso il mouse per spostare i giocatori comunque eh io no cioè quando sono lontano prendo il mouse e gli dico vai lì eh anche io delle volte lo faccio anch'io tipo adesso questi tre cosa fa cosa sta si baciano guarda che si è sdraiato è morto è drogato si è ubriagato è prima di una partita si è drogato rimane lì non c'è alzati prendo un altro gol per questo qua che è morto oh manca 30 secondi Carlo fuori ma è che l'altra porta è quell'altra si lo so finita va bene è meglio che ne facciamo un'altra sei pronto c'è una palla e basta c'è solo una palla c'è solo una palla beh l'importante è quella ma solo quella c'è non c'è nient'altro oh mio dio che cacchio si ma non ci passa la palla per arrivare in porta tu sei blu ah io sono il blu è vero vai arriva davanti e cade questo qua è il gioco più sclero dell'anno o il più orgia dell'anno più orgia io mi sa che ti sto avvantaggiando aspetta ritorno si ma la palla è fermata lì da tipo 20 anni fuori ce la farò ce la farò puoi entrare anche dall'altra parte è vero si è tira a te tira tu tu di testa di culo di piede dai oh oddio dov'è no adesso c'è il mio va in seguimento il mio non ci arrivi più là è morto eh è morto uno contro uno si si vai a te accettiamo la richiesta di Dello vai attenzione uno contro uno tu sei blu e rosso e via così sono già per terra questa è la sfida per decidere chi è il migliore tra noi due ovviamente io vincerò non so che cacchio fa il mio dall'altra parte devi far gol rosso gira dai dire ma perché cade spiegati perché cade perché golf ball sì sì no no ancora un ultimo sforzo tira di su vai corri dai e dai ma va avanti a sbiego no dai no 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 un like per questo gold manca tre minuti devo mettere la porta ancora un po' più grande per campo dai tira il muro questo alza cosa fa vola tirati su dai muoviti sei messo come me uguale no la sto mandando lontano anziché dai entra non entra allora allora chi riuscirà a fare entrare per primo sì è una bella lotta va allora dai è the goal ah non ci credo porca miseria va in qua e the goal 2-0 mamma mia eccolo se ci arrivo faccio gol se riesco ad arrivarci vado contro il muro dai gol di tacco di tacco di tacco ragazzi di tacco no perché la deve lasciare così va bene mi sa che è finita sì è finita a posto ho perso ben tre partite su tre ci sta giusto Dello ovviamente abbiamo stabilito la legge su battle for games e ovviamente la ridigita mi raccomando lasciate un bel like perché se no non ci sarà anzi ci sarà lo stesso probabilmente vero Dello sì sta cosa qua mi piace troppo anche a me mi diverte un casino questo gioco quindi ragazzi che dire il video direi che lo possiamo concludere qua anche perché secondo me è già durato un bel po' se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like anche sulla pagina facebook esatto anche sulla pagina di facebook trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto commentato ovviamente è Dello ovviamente sì è un po' che non dicevo tutte queste frasi è un po' che non facevi video infatti adesso ricomincio anche io quindi ragazzi che dire noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao